Termina i quarti l'avventura del Salerno Basket 92 alle finali nazionali under 20. Al Palama Gretti di Roseto degli Abruzzi le granatine soccombono 50-31 contro il sistema Rosa Pordenone al termine di una gara ricca di indecisioni su ambo i fronti. Maggiori quelle di Salerno che torna a casa con tanti rimpianti. Il primo quarto si chiude con Salerno avanti 8-7 con una gara decisamente equilibrata. Il secondo periodo è caratterizzato dalla paura di sbagliare con le due squadre che vanno avanti punto a punto fino a quando Pordenone non decide di schiacciare l'acceleratore e innestare le marce alte chiudendo 28-12. L'ultimo quarto regala Maggiore Verve con le campane a meno 9 a 5 minuti dalla sirena. Poi il crollo con il sistema Rosa che controlla il match sul velluto chiude la gara con un netto 50-31. Pordenone conquista la finale contro San Raffaele che poi opererà accedendo. Alla finale che vedrà in campo un'altra formazione salernidana, la Treofean Battipaglia, campione d'Italia uscente. Proprio le campionesse tricolore grazie ad una gara impeccabile battono il sistema Rosa-Pordenone con il risultato finale di 68-51 aggiudicandosi il secondo scudetto consecutivo. Per quanto riguarda il Salerno Basket invece si torna in campo domenica 23 aprile alle 18 in casa del Cuscagliari per la delicatissima gara 1 nei play-out di Serie A2. La gara 2 a Salerno fissata per giovedì 27 alle ore 19.30 per l'eventuale Bella di nuovo in Sardegna domenica 30.